In questo breve video vi condurrò alla scoperta del simbolo della tartaruga con la vela. Qui a Firenze capita spesso di imbattersi nel simbolo della tartaruga, sia alla base delle obelischi di piazza Santa Maria Novella, sia alla base del monumento a Piere Giovanni dei Medici in San Lorenzo. La tartaruga è simbolo di lentezza, tranquillità e prudenza. La tartaruga con la vela è una nota impresa di Cosimo, divenuto duca in Firenze il 9 gennaio del 1537, all'età di 17 anni. Per questo scelsa anche il simbolo del Capricorno, come suo emblema, che ritroviamo anche in facciata del palazzo Budini Gattai, assieme alla tartaruga con la vela. L'impresa è un'immagine che riassume le caratteristiche di una persona e il suo modo di agire. Quella del granduca Cosimo I aveva il motto festina lente, affrettati lentamente, espressione coniata dallo scrittore svetonio per l'imperatore Augusto, cioè veloce e prudente allo stesso tempo, proprio come una tartaruga è una vela unite. La tartaruga per la lentezza è metafora di prudenza, pazienza e vigilanza, mentre la vela gonfiata dal vento è espressione di velocità e della forza nell'agire. In Palazzo Vecchio le tartarughe con la vela sono tantissime, compaiono oltre un centinaio di volte nelle sale dei quartieri monumentali, sia su pareti, pavimenti, soffitti, rappresentate nei freggi affrescati, nelle volte, realizzate nei materiali più diversi, con colori, terracotte, stucche e oro, per celebrare le virtù del granduca. Infatti nel Salone del Cinquecento Giorgio Vasari e Giovanni Stradano dipingono tra il 1563 e il 1565 in uno degli ottagoni del soffitto di Palazzo Vecchio Cosimo mentre studia la presa di Siena. Il duca Cosimo I de' Medici è rappresentato solo in camera sua, in una camera del palazzo mentre studia le fortificazioni sienesi, in prospettiva di una conquista breve, che avverrà infatti in soli quattordici mesi tra il 1554 e il 1555. Numerose personificazioni allegoriche di virtù lo affiancano, il silenzio, la forza, la prudenza, la pazienza e anche la vigilanza. Però solo la forza è una virtù dell'azione e si è accompagnata invece da quattro virtù di pensiero, il silenzio, la prudenza, la pazienza e la vigilanza. Tutte queste virtù sono estremamente necessarie al duca per i suoi propositi, ma l'immagine simbolo della tartaruga con la vela ribadisce in sintesi gli stessi concetti e ricorre ben quattro volte ai lati del dipinto nella ricca cornice dorata. La tartaruga, che si muove sempre lentamente, restando aderente alla terra, rappresenta il procedere con gradualità ma allo stesso tempo con sicurezza verso un obiettivo. Essa inoltre portando sempre con sé il suo guscio, la sua casa, a tutto ciò che le serve proprio in sé. Può ritirarsi in esso anche per lunghi periodi. Ritirarci interiormente può servire per raccogliere nuove energie nell'attesa di un momento migliore per agire con sempre più consapevolezza. Un uomo di governo come Cosimo non doveva intraprendere nulla sotto l'impulso della fretta, in quanto la riflessione garantiva attraverso vivace vento il buon fine delle azioni. Affrettati lentamente è un'apparente contraddizione che racchiude però uno dei segreti del buon governo, unione di lentezza e velocità, dualità vista come complementarismo e non come un'opposizione. Tanto che, credo, il problema centrale di tutta la condizione umana sia quello di portare questi due contrari a un equilibrio, mantenendoli come forze e si integrano vicendevolmente, l'una complementare all'altra in totale unità. Una curiosità, anche Tito Chini, direttore delle fornaci San Lorenzo, la manifattura mugellana, usa il simbolo della tartaruga con la vela nel bellino Brunella a Viareggio, studiandolo prima in un disegno per poi eseguirlo in una formella di ceramica in vetriata posta in facciata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.